Lo spirito della prestazione. La CCX, edizione per il decimo anniversario della competition coupé, ha battuto numerosi record ed è stata progettata per fornire alte prestazioni sia su pista che su strada. È priva di optional ed elementi non necessari e ogni suo aspetto tende a un unico fondamentale proposito, raggiungere il più alto grado di velocità ed efficienza possibile. Riprogettata per rispondere alle nuove e più restrittive norme statunitensi, la CCX riprende la linea CC della Koenigsegg. Il V8, sovralimentato da 4,7 litri, costruito dalla stessa Koenigsegg, si combina con una corrozzeria ultraleggera e garantisce l'impressionante rapporto di 683 cavalli per tonnellata. La presa d'aria sul cofano, i fanali ridisegnati e i parafanghi laterali la distinguono dalle altre Koenigsegg e ne migliorano i già straordinari indici di prestazione, da 0 a 100 in 3,2 secondi e una velocità massima superiore ai 385 km metri orari.